Ciao, mi chiamo Sebastian, ho 22 anni e sono entrato a San Patrignano a 17 anni. Per me i primi Natali a San Patrignano sono stati molto tristi, perché comunque mi mancava un sacco la mia famiglia e non avevo voglia di proseguire questo percorso. Poi un giorno un mio responsabile mi disse una frase che mi illuminò, mi disse che comunque dovevo per una volta nella vita prendermi cura di me stesso e finire una cosa che avevo già cominciato. Quest'anno è il primo Natale che passo, che posso dire che sono felice. Grazie a tutti.